I ragazzi oggi hanno avuto la possibilità di vedere, partecipare, sentire fisicamente con la loro presenza corporea che poi vuol dire percepire sensazioni, emozioni, qualcosa che in effetti si studia sui banchi per loro è ancora un argomento che verrà svolto nella seconda parte del quadrimestre però è ovvio che la nostra resistenza e la Costituzione italiana attraversa tutto il percorso scolastico. Come reagiscono anche i ragazzi nel concreto, nel quotidiano di fronte a queste tematiche? Si fanno molte domande rispetto a se succedesse oggi, che cosa ne sarebbe di noi, che cosa ne sarebbe della mia famiglia, come reagirei? Un museo che ha un'ottica moderna nel senso che si rivolge a persone che per fortuna la guerra non l'hanno vista e poi abbiamo voluto dare un taglio anche su aspetti che un po' erano stati trascurati ad esempio sulla partecipazione della popolazione, sulle donne, sugli internati.